Siamo a sette giorni dalla chiusura della campagna elettorale, domenica prossima si voterà e quindi decideremo le sorti di questa nostra bella isola, in particolare del nostro bel comune che è Capri. Vorrei subito entrare in argomento per quanto riguarda la presunta polemica sulla questione di questo famoso dibattito che a dire di Costantino Federico dovrebbe risolvere le sorti del nostro amato paese. Io non ho mai avuto nessun problema a parlare e a dibattere con Costantino Federico anche se io ritengo che sia prima necessario parlare con Gianni De Martino. Perché bisogna parlare con Gianni De Martino prima? Perché qui c'è un'amministrazione che ha finito il proprio mandato il cui sindaco si candida come seconda persona nella lista con Costantino Federico, non si candida più da sindaco. E a mio parere senza fare i processi come dice Costantino Federico è necessario che si faccia un po' il rendiconto di quello che è stato fatto, di quello che ne sono state fatte, delle promesse che sono state sblanderate all'atto della vittoria della primavera alle scorse elezioni e di tutte le cose che poi non sono state realizzate. Quindi diciamo la mia idea è che possiamo sicuramente fare un dibattito con Costantino Federico e ti dico una cosa, Costantino Federico, io lo volevo fare in piazza, non per una furbata, perché ho paura di confrontarmi con te, ritengo di avere un minimo di preparazione per potermi confrontare con chiunque, ma perché io sono uno del popolo abituato a stare in mezzo alla gente la mattina e la sera, non sono abituato a stare in ufficio chiuso, io ho un rapporto con le persone sempre costante, 365 giorni all'anno, anche il giorno di Natale, quindi la mia visione delle cose è che secondo me non era sbagliato fare un discorso, un dibattito in luogo chiuso, con le domande preconfezionate, in modo in cui uno si poteva preparare. Io ho una visione diversa, però voglio venirti incontro, voglio stare al tuo gioco, io sono disponibile anche a venire a Telecapri, anche nel tuo ufficio e parlare, dibattere, confrontarci su volete del paese, un attimo dopo che incontro pubblicamente l'ingegnere De Martino che è stato sindaco di Capri, perché bisogna dar conto delle cose, questo è un passaggio a mio giudizio fondamentale. Io in questi giorni ho avuto tantissimo riscontro di affetto da parte delle persone, la gente mi vuole bene, non mi teme, che è diverso e io vedo una visione di questa nostra isola, di questo nostro comune dove la gente può salire tranquillamente al comune senza avere paura, senza avere paura di rappresaglie, anche principalmente chi non mi ha votato, perché il problema qual è? Io, caro Costantino, non ho bisogno che tu mi faccia a me una lezione di diritto amministrativo, veramente mi sembrerebbe quasi offensivo che tu mi tratti in questa maniera, perché lo sai, che io so come si svolge le attività amministrative e tu lo sai come sono stato operativo in questi anni. Quindi è una visione diversa che abbiamo, io penso che il sindaco di un paese deve essere una persona sempre disponibile, sempre pronta a venire incontro alle esigenze della gente e con le idee chiare e a farsi rispettare all'esterno e farsi rispettare dell'istituzione. Io quando dico che voglio essere il sindaco di tutti, voglio essere il sindaco di tutti, perché se tu ti ricordi, a mio parere tu sei stato un sindaco in certi periodi molto divisivo, per tante polemiche storiche che sono state fatte, molto spesso non sei stato un sindaco di unità di questo paese e quindi la mia visione invece è il contrario della tua, io voglio essere un sindaco unitario dove la gente non deve avere paura di parlare con me. Io sono uno del popolo, sono sempre stato e cerco di rimanerlo sempre vicino alla gente, perché io dalla mattina sera ho questo rapporto intenso con le persone che mi danno anche a volte tante preoccupazioni, ma mi dà anche tanta soddisfazione nei rapporti umani. Io ritengo che voglio essere un sindaco unitario, un sindaco umano, un sindaco che sta lì a disposizione delle persone e che sappia rappresentare in maniera culturalmente preparata, in maniera intelligente, in maniera seria questo paese, senza litigare, senza zarritoni, senza dire una sola parola fuori posto. Questa è la mia visione del paese. Noi abbiamo parlato in questi giorni di condoni, abbiamo parlato di problemi abitativi, abbiamo parlato di cose serie e tu di che cosa hai parlato? Questo è il problema. La nostra visione è una visione reale, perché io so qual è il problema della gente, so quali sono i problemi abitativi, so i problemi di attenzione delle persone. Questa è la differenza che c'è tra noi, cara Costantino e Federico.